Diciamo che dopo più o meno un mese, 40 giorni che sono qua, la cosa più importante è che ho delle sensazioni positive a livello generale di squadra innanzitutto e anche a livello personale. Per quanto riguarda il campionato, come ha appena detto lei, poi se non è un problema per voi ci diamo del tutto tutti così facciamo le cose più facili. Da un punto di vista del campionato, sicuramente un campionato che non pensavo sinceramente fosse così difficile ma non tanto da un punto di vista tecnico ma da un punto di vista comunque tattico e comunque il Palermo è una squadra che vuoi o non vuoi, in Serie B è una squadra che qualsiasi avversario gioca la partita della vita. Sì, diciamo che da un punto di vista della tattica, dei ritmi, è un campionato comunque difficile. Poi ripeto, il Palermo è una squadra che prima è in Serie B, credo che qualsiasi squadra giochi contro il Palermo vuole fare la partita della vita. Nel quale si è trovato il suo agio? Sì, io personalmente mi sto trovando bene, non è retorica e non è un modo di dire, devo dire grazie ai compagni, allo staff tecnico perché comunque mi stanno mettendo nelle condizioni di sentirmi bene a mio agio e quello credo che sia importante per un nuovo acquisto.